Musica Allora, sono a Monaco di Baviera e sto facendo il mercatino di Natale. Ecco, cominciano a girare, almeno hanno cominciato, eccoli là. E' la miseria, Marlene. Vai un po' più avanti. Ripeto, per l'altro il municipio, cosa succede qua? Quindi mi dicono che suona alle 11. Quanto tempo ha questo meccanismo? No, dico, da quanto tempo suona, dalle gira? Secoli, sono finale di anni. Non si sa. A me casomai dopo faccio una ricerca. Allora, qua sotto c'è il mercatino. Il mercatino, i posti dove si viene a mangiare. Altri, io purtroppo non so il nome, queste cose vende dolci. Mangiamo una parte tipica bavarese, almeno ci dicono da mangiare. Guardate quanta gente. Disastro. Ecco, Marlene dice, è il Duomo. Il Duomo di Monaco. Notate come le lancette sono d'oro. Diversa molto dall'architettura italiana, eh? Diversa molto dall'architettura italiana, eh? Eh, è una roba tifica di Monaco. Ma cos'è questo, Marlene? Un negozio. Negozio di che cosa? Di abbigliamento. Abbigliamento, ma pensa a te. E tant'altro con le famose scarpe. Ma comunque queste statue qui sono tipiche di Monaco, se non sbaglio, no? Oh santo Dio.